Buongiorno, un piccolo regalo per un grande ringraziamento. Ciao Cristina, grazie. Buongiorno. Perché sei rimasta così contenta di questa idea? Dici un po'. Perché mi avete trovato velocemente la casa che volevo. Mi avete aiutato ad avere un mutuo e nonostante il mio carattere, ansioso. Mi avete sempre rassicurato e mi sono sentita in buone mani. Cristina si è rivolta a noi perché era arrivato per lei il momento di comprare. Ci ha spiegato cosa stava cercando e non appena abbiamo individuato l'appartamento che rispondeva alle sue esigenze, l'abbiamo contattata e l'abbiamo anche consigliata per il mutuo. Sono andata a vedere l'appartamento e ho fatto subito la proposta. Dopodiché mi sono affidata completamente a voi che vi siete occupati di tutto. Ho già mandato da voi dei miei amici che vogliono comprare e se qualcuno mi chiede dirò sempre andate da casa idea. Grazie Cristina e complimenti per l'acquisto. Vi ringrazio di tutto. Grazie a tutti.